ciao ragazzi come va allora di nuovo insieme come avevo premesso l'ultima volta e farò durante avanti lezioni solo su richiesta quindi usate il modulo presente nel mio sito nella sezione video lezioni dove c'è appunto questo modulino dove potete lasciarmi anche in forma competente anonima basta usare il nickname per poi riconoscervi una di queste l'ultima che mi è arrivata è di una ragazza quindi non potevo tirarmi indietro assolutamente mai cate caterina che mi dice ciao ai altri video e o tutorial di brani musica classica suonabili col basso oltre preludio della sweet and soul per bioncello e bac è il tipo di studio che amo di più vabbè poi sei un grande ok grazie allora qui si apre un capitolo che a me sta molto 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 a cuore che è quello di la musica classica che in realtà io sono musicista moderno amo tendenzialmente jazz e tutto quello che ne deriva ma suono da una vita musica pop musica leggera attuale in realtà come gusti musicali la musica classica ha avuto e ha tuttora un grande un grande rilevo nella mia vita e oltre ad ascoltarla amo anche certi compositori non tutti ovviamente anche lì si parla di gusti personali e analizzarli e perché no cercare di suonare o comunque suonare delle parti o dei pezzi dei tipi di composizioni in qualche modo rifattibili con il nostro strumento quindi col basso e le i tipi di composizioni più secondo me più alla nostra portata anche se comunque sia in ogni caso vanno rivisti vanno non riarrangiati ma comunque resi fattivi di correggere il nostro strumento chi ha più corde è più avvantaggiato chi come me si limita al 4 20 tasti sarà un po più in difficoltà quindi va un po sistemate le varie ottave e vari range appunto le estensioni appunto dei brani allora come dicevo le le composizioni più alla portata di noi bassisti secondo me rimangono le sonate che erano comunque era un tipo di composizione vorrei la storia e la musica non la conosco proprio perfettamente credo sia comunque derivi dal periodo barocco nel quale andava diciamo c'era la musica corale quindi cantata diciamo la musica sonata qui il termine sonata che era non poteva essere di vari di vari tipi quindi questo è quello che so ecco quella musica la sonata in genere è abbastanza fattibile perché da non confondere con una sinfonia lì si va nel caos totale la sonata di solito è più diciamo alla nostra portata ecco linea di linea di linea di massima quindi poi ci sono le suitte sempre quindi anzi le suitte vengono da prima dell'epoca barocca poi nel barocco ora non ricordo il nome del compositore fu quello che dette proprio un una forma ben precisa le suitte suite mi insegnate che sono una serie di balli quindi era musica fatta per accompagnare i balli di quel periodo quindi le varie gig le mande eccetera eccetera però non sto qui a farvi il zemmone di musica e comunque ogni tipo di di ballo aveva una sua forma ben precisa quindi di solito la suite era introdotta da un preludio e poi c'erano appunto le varie le varie forme magari l'allemandia aveva un tempo e un andamento piuttosto che un altro tipo di ballo un'ultima cosa che anzi sto proprio in questo periodo studiando sono le invenzioni che è un po' una specie di diciamo di delle fughe e quei tipi di composizione lì invenzione a due voci le principali più famose sono le 15 invenzioni anzi le 30 15 a due voci 15 a tre voci lasciamo ora però quelle a tre voci quindi 15 invenzioni a due voci di Bach ovviamente io parlo di Bach per gusto mio personale ma ho studiato e sto studiando anche altri compositori molto molto belli che poi vi consiglierò parlo ora di Bach perché diciamo è anche quello più che mi ha dato di più a livello sia emotivo ma anche di cultura musicale perché da lui finalmente ho cominciato a capirci un po di armonia ma proprio nel vero senso della parola quando si parla di utilizzo di certe scale di contrapunto di tante cose di tonalità e tutto quello che ruota intorno solo analizzando i grandi compositori classici io personalmente i gorsardi sono riuscito in qualche modo piano piano a farmi un'idea veramente di cosa significa l'armonia musicale quindi non come i libri attuali non con quello che viene definito con quella che viene definita musica modale secondo me non è che la musica per l'amor di dio sia nata nel periodo barocco però gran parte proviene tutto da lì ecco se ascoltate alcuni pezzi alcune opere di appunto i Bach Chopin, Mozart, Beethoven, chi più neanche più ne metta sembrano composti ieri l'altro invece si parla del 700-800 quindi io prendo tanto spunto da questi grandi compositori e l'ultima cosa che ho pubblicato a questo link è la prima invenzione a due voci in don maggiore che vi invito a studiare nel modo in cui lo faccio io ovvero non prendere un libro senza fare nomi però io purtroppo mi sono trovato male dove trovi lo spartito con le tab o comunque diteggiature che sono infattibili su un basso quindi lì purtroppo è solo stato preso uno spartito originale e riscritto in chiave di basso e poco altro no secondo me il bello di questo studio questo tipo di studio è prendere lo spartito e cercare di capirci qualcosa e il bello è proprio cercare di risuonarlo e renderlo orecchiabile il nostro strumento vi faccio un esempio un clavicembalo ben temperato un conto è studiarlo a mo' di esercizio e va benissimo anche quello perché ci costringe comunque a cercare delle diteggiature un po' anomale per noi bassisti cioè per rifare quello che è stato creato per strumenti appunto un clavicembalo oppure per organo per bionoccello quindi totalmente diversi dal nostro strumento che intanto rispetto a un bionoccello accordato per quarta e non per quinta quindi cambia già il mondo delle diteggiature eccetera e poi proprio sono pensato che strumenti appunto il clavicembalo che è una serie continua di arpeggio alla fine su uno strumento a tastiera le corde, le corde, i tasti, le note quindi restano, hanno un intervallo ben preciso di durata del suono che difficilmente col basso riusciamo a ricreare quindi dobbiamo trovare delle tecniche questo per me è molto stimolante, delle tecniche per far suonare meglio possibile queste cose ad esempio l'inizio del preludio del clavicembalo un conto è suonarlo così, questa frase un conto è cercare di dargli un senso quindi vado ad ascoltarmi le varie interpretazioni, le varie registrazioni poi cerco di cerco di rifar suonare magari più possibile alcune note, quando possibile eccetera eccetera cerco di capire l'andamento armonico del brano quindi qui ovviamente non si parla tanto di accordi quanto di progressioni armoniche quindi perché ci sono determinati accordi perché in questo caso Bach ha usato un sol settima eccetera eccetera quindi questo ve lo lascio a voi che è bello proprio dello studio oppure le suite quando mi chiedono anche gli studenti mi insegni la suite in sol per violoncello un pochino mi arrabbio perché sembra che di suite esista solo quella intanto è solo il preludio della suite numero uno tra l'altro e non è nemmeno tra le mie preferite anche se l'ho sentita forse proprio per quello l'ho sentita suonare milioni di volte anche col basso e più delle volte suonate proprio a esercizio anche a velocità pazzesche che secondo me non hanno senso invece il bello anche di questo studio quindi delle suite è intanto scoprirle tutte perché già il secondo movimento secondo me è molto più bello del preludio ma comunque anche un... anche il preludio stesso andate a cercare modo di farlo uscire col cuore diciamo perché non è questo se sentite innanzitutto a noi ci manca l'attacco dell'arco quindi questi sol che Bach usa come sorta di pedale noi non... dobbiamo dargli molto accento quindi è bello anche cercare di ricreare un po' quell'effetto lì neanche se come diciamo è impossibile però ora esagero oppure cercare un'ottava diversa vado a memoria anche l'uso corde a vuoto che magari non... non è proprio così lo spartito originale però mi adatto un po' la dinamica quindi ad esempio come dicevo prima il secondo movimento della prima suite della Le Mande secondo me è molto più bello del preludio qui la dinamica è fondamentale provo a suonarvene un pezzettino piccolo qui vorrei un po' che non li suonano questi binari ecco non serve secondo me andare a cercare la velocità a tutti i costi per far vedere qualcosa che non interessa a nessuno secondo me scommetto che a nessuno le hanno fregato una cosiddetta... che sono andato un po' più veloce rispetto a questo non è un po' più veloce rispetto a questo eccetera eccetera... io cerco di metterci cuore poi sono abituato a suonare i chord fretless quindi alcuni abbellimenti anche qui è anche un altro ottimo metodo per acculturarsi, capire i abbellimenti, i gruppetti, i mordenti, i inferiori, il vibrato più largo eccetera eccetera... quindi questi sono ottimi 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 capolavori su cui poter studiare veramente una vita anche perché ripeto sono molto indicati anche per la tecnica perché studiando queste cose qui andiamo per forza a curare determinati aspetti che magari in un brano per dire rock possono essere anche un pochino nascosti con tutti gli altri strumenti qui siamo a tu per tu con noi stessi perché quando poi ci riascoltiamo, ci registriamo se non abbiamo un buon muting, se non abbiamo fatto delle buone dinamiche, delle frasi con l'andamento proprio da musica classica eccetera eccetera... non ci soddisfranno mai ecco queste queste nostre performance poi anche l'estensione della mano, ci sono dei passaggi in cui è richiesta veramente una tecnica solida e consolidata l'invenzione che ho fatto all'ultimo video, tanto trovate tutto al link, anzi se chi poi fosse interessato a me piace molto questo argomento da musica classica per basso tant'è che negli anni mi sono fatto un mio libro personale con tutte le mie diteggiature quindi e soprattutto cercando di renderle, come dicevo prima, tutto quello che ho trascritto e studiato, non solo i Bach renderlo veramente eseguibile sul basso elettrico, non come purtroppo altri libri con cui diciamo non mi sono trovato bene cosa ho fatto nell'invenzione numero uno in Don Maggiore, che vi consiglio di analizzare perché a volte mi chiedevo, è qui che ho scoperto il bello dell'analisi diciamo armonica di queste opere perché diciamo un Don Maggiore già dopo tre battute per dire trovavo un fa diesis e dicevo se siamo un Don Maggiore, parlo di tanti anni fa, se siamo un Don Maggiore questo fa diesis come mai? e allora lì nasce tutto il discorso di scale, utilizzo di varie cose sono due voci, quindi quando analizzate cercate sempre di guardare tutto quello che è la composizione quindi si parla di contrapunto, rispetto alla fuga c'è una forma un po' diversa qui arrivato un po' nella storia, comunque non sono proprio risposte tra le due voci comunque è un altro tipo di composizione, comunque cercate di analizzarle tutte e due e quando le trascrivete, se le trascrivete, siccome sono state create per, in questo caso non ricordo se per organo comunque per strumenti molto, molto, molto a tastiera io ho diviso le due voci per due strumenti, anche perché è impossibile farle con uno strumento solo e in questo caso ho usato il contrabbasso, giusto per fare qualcosa di un po' più originale ho fatto la seconda voce col contrabbasso, anche perché per i miei limiti di bravura era un pochino più fattibile e la prima voce col basso elettrico, può essere un'idea oppure fare una voce col fretless, una con il basso con i tasti, un'altra idea oppure chi suona più strumenti, insomma, date spazio alla creatività ecco, io ho fatto questo, poi magari a molti farà, non farà un bel effetto però io mi sono divertito, mi piace, eccetera altri brani a consigliare? Io farò, come ho detto prima, una bella lista un consiglio che vi do è non fermarvi solo ai best of, diciamo, che sia Bach, Mozart, Chopin, Stravinsky, eccetera ma cercate di analizzare il più possibile, ascoltare, io ho dischi interi di compositori quando vado nei mercatini, io prendo e poi alla sera mi metto lì, butto e poi c'è della roba, mi piace, della roba no però ho scoperto veramente cose, anche di compositori che non conoscevo proprio e per quanto riguarda la mia cultura musicale è stato il salto di qualità non che io ora sia un musicologo, l'amor di Dio ci mancherebbe però ecco, ne so più di prima e mi diverto moltissimo anche a, non solo a risuonarli, ma anche a discuterne di queste cose quindi se c'è qualcuno veramente interessato posso anche passare del materiale che ho, che ho raccolto e fare altre lezioni, magari anche più specifiche su un determinato brano quindi se mi chiedete, mi parli del clavicembalo, ben temperato oppure mi parli della nona sinfonia di Beethoven magari è un po' più un casino però ecco, mi piace molto questo tipo di lezioni, di argomenti quindi se siete interessati a tutto quello che ho detto lasciatemi un commentino qui sotto al video o meglio ancora nella sezione, come si chiama, video lezioni del mio sito www.igorsati.com per oggi ragazzi vi saluto vi ricordo che le uniche lezioni che poi saranno pubblicate sul mio canale saranno le vostre richieste un saluto e al prossimo video grazie a tutti